Come mai è successo questo? Io, seppolino anch'io, l'amicizia, la stima con Bruno per tutto il lavoro svolto. Aggiungo in questo, però pensando in futuro, dico che io vorrei fare il test perché è quello che ho scritto e poi ci vogliamo dire l'intervento di questa sera. Secondo me, non c'è il dibattito per il bilancio, secondo me questa città, come tutta la città, c'è molte fratture. Ci sono fratture tra chi sta bene e chi sta meno bene, tra chi sa e non sa, tra i giovani e i stiani, tra chi ha casa o c'è alta, ha morto e sfide. Secondo me, prossimo a Como, è questo che il Comune, il Comune, il Comune, il Comune, il Comune e il Comune, vorrà veramente impegnarsi a recuperare queste fatture. Per recuperare queste, per noi, è essenziale il pubblico, quindi il Comune deve essere partecipi per questa amministrazione, per sottolineare i pubblici rettiti e per favorire il ricordudimento di queste fatture che ci sono, che forse non sono state capite e quindi io non ci stiamo inviati a eliminare il Comune, il Comune, il Comune, il Comune. Seppure non possiamo sentire il Comune, il Comune, il Comune di questa aggiunta per il Comune sociale, è che non c'è il comune di tutto. Aggiungere i pubblici rettiti. Aggiungere i pubblici rettiti.